La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare, crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'anisetta Meletti. Il successo dell'anisetta porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi. Nel 1879, il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri. Processi produttivi e artigianali e ricerca delle migliori materie prime sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti ha tracciato le linee guida per il futuro. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo, a fare dei liquori Meletti prodotti unici e intramontabili.